Dopo i lavori e collaudi che sembravano non arrivare mai, finalmente l'inaugurazione? Diciamo che sembravano che non arrivassero mai, ma abbiamo bruciato i tempi, perché per fare un intervento del genere su un impianto di questo tipo si vuole molto più tempo. Abbiamo fatto tutti gli interventi, abbiamo avuto la collaborazione dei funzionari e del personale addetto, l'hanno lavorato giorno e notte e siamo arrivati a collaudare. Sembrava una cosa quasi impossibile, ci siamo arrivati. Quindi grande soddisfazione? Sicuramente sì, 14 mesi fa non avevamo neanche i soldi per fare l'intervento, in un anno, in 14 mesi abbiamo trovato i soldi, abbiamo fatto i progetti, abbiamo fatto gli appalti, abbiamo fatto i lavori e abbiamo fatto i collaudi. Qual è la situazione neve qui nel comprensorio del Monte Moro? Allora, una situazione di nevamento veramente scarso se pensiamo che siamo ai 3.000 metri, comunque ci ha consentito di aprire perlomeno lo skillift San Pietro, che è lo skillift più alto, siamo a quota corretta ai 2.800 metri e siamo felici perché questa partenza, anche se in corsa durante la stagione, è un segnale importantissimo che doveva essere dato anche per far capire l'importanza dei lavori fatti e far capire che Monte Moro proseguirà nella sua attività. Un bilancio su questa stagione scistica? Stagione scistica sicuramente, come dire, basata o caratterizzata da un'assenza di precipitazioni nevose, l'innevamento artificiale è stato fondamentale per garantire l'apertura degli impianti del Belvedere, cercheremo in tutti i modi di arrivare fino a domenica prossima con gli impianti del Belvedere, quindi arrivando a fine marzo possiamo dire di essere veramente soddisfatti, per quanto riguarda il Monte Moro invece ci aspettiamo che le quote ci consentiranno di andare più avanti e quindi prevediamo di restare aperti tutti i weekend fino al primo maggio, che è la data di chiusura normale per la nostra attività.